Anche quest'anno l'installazione dell'Orto Botanico di Brera è stata realizzata in collaborazione con Eni. Sunrise, questo è il titolo, propone un'idea particolarmente interessante. Infatti sono presenti girando tra i vari corridoi verdi dell'Orto Botanico alcune strutture geometriche costruite utilizzando gli scarti della lavorazione del riso. Di fatto è l'idea di una installazione ecologica e sostenibile in cui in pratica alla fine non si budda via nulla. Inoltre l'ingresso dell'Orto ci hanno omaggiato con alcuni biscottini realizzati con farina di ceci e di riso giusto per completare l'idea sostenibile dietro l'installazione dell'Eni. Inoltre l'ingresso